Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Scontro tra due auto sulla Flaminia Ponte Murello, 24enne, finisce all'ospedale Violenza sulle donne, 60 casi nella città di Fano dall'inizio dell'anno, con un aumento del 30% rispetto al 2018 Controlli sulla pesca, nelle Marche elevate 24 sanzioni sequestrate, 700 kg di prodotto ittico L'arma di Fano festeggia la Virgo Fidelis, celebrata una santa missa in cattedrale Giornata dei diritti dell'infanzia, a Pesaro un flash mob degli studenti all'istituto Dante Lighieri Al via domani il Natale che non ti aspetti, a Pesaro la cerimonia inaugurale con l'accensione dell'albero più illuminato d'Italia A Monbaroccio la prima nevicata artificiale con la sfilata del presepe vivente Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia In apertura un incidente frontale che si è verificato questa mattina in località Ponte Murello Nel comune di Cartoceto, nello scontro è rimasta ferita una giovane di 24 anni Illesi invece gli occupanti dell'altra auto, il servizio di Lino Balestra Una ragazza fanese di 24 anni è finita al pronto soccorso di Fano Non in gravi condizioni a causa di un incidente stradale La donna questa mattina alla guida di una Fiat Punto Poco dopo le 10 viaggiava in direzione di Lucrezia Quando vicino a Ponte Murello di Cartoceto per ragioni ancora al vaglio della polizia locale Dopo una curva ad esse ha perso il controllo dell'auto Andando ad invadere la corsia opposta schiantandosi contro il guardrail L'urto è stato violentissimo al punto da far uscire dalla sede il motore dell'autovettura Che si è polverizzato in mille pezzi E ha innescato anche una carambola che l'ha portata dopo diversi testa cosa Ad urtare frontalmente una Citroen che procedeva in direzione Fano Con a burdo due residenti di Lucrezia Un uomo e una donna rimasti miracolosamente illesi I pezzi della Punto Grigia si sono sparpagliati per una cinquantina di metri Per tutta la carreggiata finendo alcune pari del motore anche nel fossato al lato della strada Ora l'infortunistica di Fano sta cercando anche attraverso la testimonianza diretta della stessa giovane Di ricostruire la dinamica del sinistro Non avendo riscontrato sull'asfalto nessun segno di frenata Gli occupanti della Citroen accortisi che la Punto era totalmente fuori controllo Hanno tentato di evitarla spostandosi verso il margine destro Ma il guardrail gli ha impedito ogni via di fuga Gli airbag della Punto invece hanno probabilmente evitato Conseguenze più gravi alla giovane conducente che è uscita da sola dalla vettura Ed ha aspettato l'arrivo del 118 che l'ha portata per accertamenti al Santa Croce Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano Per mettere in sicurezza l'auto dato che era alimentata a GPL Le auto poi non marcianti sono state rimosse con il carro attrezzi E il manto stradale ripulito dai liquidi persi dalle due auto Due le pattuglie della Municipale sul posto che oltre ai rilievi Ha gestito il traffico a senso alternato per tutta la durata delle operazioni Ed è terminata una complessa operazione su scala regionale della Guardia Costiera Che dal 18 novembre ad oggi ha effettuato controlli e verifiche allo sbarco del pescato Nei centri di distribuzione, nei supermercati, nelle pescherie e ristoranti In totale sono state elevate 24 sanzioni per un importo complessivo di oltre 37 mila euro Tra le violazioni ricorrenti rientrano la commercializzazione Sia di prodotto ittico privo dell'etichettatura e rintracciabilità Sia di quello al di sotto della taglia minima di cattura L'attività ha portato al sequestro di 745 kg di prodotto ittico E varie attrezzature da pesca irregolari E sono 60 invece i casi di violenza sulle donne Che si sono verificati nella città di Fano dall'inizio dell'anno ad oggi Questi dati sono stati illustrati stamattina Durante un consiglio comunale monotematico aperto agli studenti nella Sala Verdi del Teatro E l'uomo quindi, il soggetto maltrattante dovrà Una ricorrenza che si ripete da diversi anni Quella del consiglio comunale monotematico sulla violenza contro le donne Aperto agli studenti degli istituti superiori fanesi Questa mattina, poco dopo le 9, circa 190 studenti di tutte e quattro gli istituti scolastici Si sono ritrovati nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano Accolti dal presidente del consiglio comunale, Carla Cecchettelli E l'assessore alle pari opportunità, Sara Cucchiarini E dove hanno assistito, in apertura di seduta, allo spettacolo Filippo Un monologo scritto da Betta Cianchini e interpretato da Federica Quaglieri E che tratta di femminicidio attraverso una rappresentazione veritiera Che passa dal comico al grottesco fino al drammatico Prendere coscienza di questo problema e sensibilizzare Che ho tenuto importante la presenza oggi di questi alunni Per poter sensibilizzare il problema e vedere come affrontarlo E le donne devono sapere che le istituzioni sono vicine, le forze dell'ordine sono vicine Quindi non si devono sentire sole A seguire è iniziato il dibattito, accompagnato anche da reading e video Diversi i relatori poi al tavolo, tra cui l'avvocato Chiara Gasparini Ed il dottor Giovanni Di Bari dell'associazione Cante di Montevecchio Tutte figure direttamente legate al tema della giornata E che hanno fornito importanti spunti di riflessioni agli studenti E anche delle informazioni utili per e come denunciare eventuali casi di violenza Presenti anche le forze dell'ordine, polizia e carabinieri Con il comandante della stazione di Fano Antonino Barrasso Ed il dirigente del commissariato Stefano Seretti Che dal palco ha esposto i numeri dei casi trattati su Fano Per violenza domestica e maltrattamenti fino a novembre 2018 Con ben 60 codici rossi attivati e trattati Con un aumento, un aumento sensibile rispetto allo scorso anno 2018 Di circa un 30% e questo da mettere in relazione principalmente A una maggior predisposizione e sensibilizzazione che c'è stata Nei confronti di tutte le vittime a presentarsi presso polizia di Stato Carabinieri forze dell'ordine a presentare denunce Insomma a esporre tutto ciò che stanno vivendo Ecco i ragazzi lo sono stato a sentire con grande attenzione Forse neanche loro si rendono conto della vastità di questo fenomeno Io parlo della città di Fano dove ho sempre lavorato negli ultimi anni Della quale mi occupo per il mio lavoro quotidianamente E quindi per questo fenomeno credo che meriti proprio una citazione particolare Di quello che avviene a Fano Altri dati, negli ultimi anni sono diminuiti i delitti commessi Nella provincia di Pesero Urbino con una riduzione in particolare dei furti E quanto è emerso oggi nel corso della riunione del Comitato Provinciale Per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica Preseduto dal perfetto Vittorio Lapolla Durante l'incontro è stata auspicata l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza Ed è stata raccomandata la loro periodica manutenzione Per garantirne la piena efficacia e la capacità di svolgere una funzione di supporto Alle forze di polizia sia sotto il profilo della deterrenza Sia sotto quello della identificazione degli autori di reati Secondo il prefetto, le amministrazioni locali dovrebbero sensibilizzare i cittadini A segnalare sempre situazioni o persone sospette Al Duomo di Fano nel tardo pomeriggio di oggi è stata celebrata la ricorrenza della Virgo Fidelis Patrona dell'Arma dei Carabinieri La Santa Messa è stata celebrata dal Vescovo Armando Trasarti C'era per noi Filippo Pucci Cattedrale di Fano questo pomeriggio gremita di fedeli ed autorità I Carabinieri della Compagnia di Fano hanno festeggiato oggi la loro Virgo Fidelis La patrona dell'Arma dei Carabinieri La celebrazione è stata ufficiata dal Vescovo Armando Trasarti Che nell'Omelia ha rimarcato il mestiere e il ruolo del Carabiniere Un modo, quello di oggi, per ringraziare l'Arma nella vicinanza e nel sostegno di tutti i giorni Uomini e donne che non si risparmiano nella tutela delle comunità civili Pronti sempre al dovere, sacrificando la propria vita ed anche quella delle loro famiglie Oggi a Fano celebriamo la Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei Carabinieri Nonché la ricorrenza dell'anniversario della battaglia di Culquaber e della giornata dell'orfano E proprio a loro, agli orfani e ai familiari dei nostri caduti Che con la cerimonia di oggi vogliamo rivolgere il nostro abbraccio più affettuoso E la nostra vicinanza più sentita Un ringraziamento particolare è doveroso farlo a sua eccellenza Il Vescovo Trasarti Un grazie anche al signor prefetto di Pesor Urbino Al sindaco di Fano A tutti i sindaci dei comuni delle vallate del Cesano e del Metauro I rappresentanti del mondo della cultura, dell'istruzione, del volontariato e della sanità Che ci hanno omaggiato della loro presenza Un grazie ulteriore alle sezioni Carabinieri in congeto Al coro dell'Ispettorato Marche Per il loro contributo fondamentale alla buona riuscita della cerimonia Un ultimo ringraziamento davvero a tutti coloro che sono intervenuti Che con la loro presenza hanno di fatto omaggiato e impreziosito questa nostra cerimonia Durante la Santa Messa presenti anche il prefetto di Pesaro e Urbino Vittorio Lapolla e i sindaci dei comuni limitrofi Dove la Compagnia dei Carabinieri di Fano opera Al termine della funzione religiosa Il comandante della Compagnia di Fano, Maximiliano Papale Ha salutato gli intervenuti e ringraziato gli uomini in divisa Per l'impegno quotidiano che svolgono al servizio del cittadino Un ringraziamento sentito ai Carabinieri della Compagnia di Fano Che quotidianamente con spirito di sacrificio adempiono al loro dovere Cercando di massimizzare l'efficienza nel servizio che rendiamo ai cittadini Un grazie per quello che fanno ogni giorno a vantaggio della nostra comunità E oggi è Santa Cecilia patrona dei musicisti E tante sono le orchestre e le bande musicali che festeggiano questa ricorrenza Oggi 22 novembre è un giorno molto speciale per chi nella vita ha l'amore e la passione per la musica Oggi è Santa Cecilia ovvero la patrona dei musicisti Nobile donna romana che visse tra il secondo e il terzo secolo La sua storia le è stata attribuita grazie ad un brano dell'appassio nel quale descriveva il suo matrimonio Mentre musici suonavano gli strumenti musicali La Vergine Cecilia cantava nel suo cuore soltanto per il Signore Dicendo Signore il mio cuore e il mio corpo siano immacolati affinché io non sia confusa E fu proprio per questa occasione che le venne attribuito l'appellativo di patrona della musica Sono tante oggi le bande, le orchestre e i musicisti in Italia che festeggiano questo giorno importante Uno tra i tanti complessi musicali della provincia di Pesaro e Urbino E' quello del corpo bandistico di Cartoceto Ricostituito nel 1980 e diretto dal maestro Mauro Bergami Domenica scorsa all'interno del santuario della Madonna delle Grazie a Cartoceto La banda ha animato la messa E poi sfilato per le vie del centro storico Al termine della celebrazione tutti i componenti si sono ritrovati per trascorrere il pranzo insieme E festeggiare ancora una volta la patrona Santa Cecilia Anche noi siamo riusciti quest'anno dopo tanti anni a rifare una bella Santa Cecilia Sia in chiesa sia al ristorante e sia in amicizia Quindi i nostri 40 anni che ho riniziato la banda del 79 Credo un bel traguardo a livello umano e anche professionale Dopodiché comunico a chi ascolta che il nostro intento E' quello di promuovere la musica a livello culturale E però c'è una scuola Che i ragazzi avendo il corso gratuito potrebbero venire a imparare Perché la banda continua se ci sono i giovani che imparano Altrimenti non è possibile proseguire Perché poi per tanti motivi alcuni smettono perché stanno male O perché hanno impegni di lavoro E quindi io rimpiazzavo continuamente negli anni Però ultimamente c'è un pochino poco Poco diciamo Entusiasmo per imparare la musica Comunque teniamo in alto il fatto della musica Perché è a livello culturale ragazzi Non è una cosa a livello di gioco Io dico ai miei giovani Sentite, la musica è una cosa seria E dopo le piogge e i gravi danni provocati dalle mareggiate lungo le coste marchigiane Questo fine settimana torno al maltempo In particolare nella giornata di domenica Secondo Trebimeteo sono previste forti raffiche di vento E piogge abbondanti anche sulle regioni adriatico Con un miglioramento graduale solo in nottata Il rischio di nuove mareggiate è dunque molto alto Su tutte le coste esposte al mare adriatico in burrasca Le temperature invece saranno in lieve calo Con massime tra i 14 e i 17 gradi In occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Gli studenti della scuola Dante Alighieri di Pesaro Hanno organizzato un flash mob all'interno dell'istituto Il servizio di Francesco Salvago Viene ricordata il 20 novembre La giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Adottata 30 anni fa su iniziativa dell'ONU E viene ricordata in ben 190 paesi nel mondo L'obiettivo di questa ricorrenza è di sancire il diritto alla vita Alla sopravvivenza, allo sviluppo e non essere discriminati in nessun modo emotivo In questa occasione l'istituto comprensivo Dante Alighieri di Pesaro Ha organizzato un flash mob nell'atrio della scuola primaria Dove gli insegnanti hanno voluto lasciare la parola ai ragazzi Per rivendicare i propri diritti Dopo un momento corale in cui i bambini hanno recitato lo slogan Insieme hanno attaccato le foglie all'albero Riprendendo il tema dei diritti dell'Unicef Il mini sindaco con la giunta Hanno fatto un discorso focalizzandosi sul diritto di espressione E quello di avere un futuro Ricordando il caso di Iqbar Il bambino pakistano che ha lottato contro lo sfruttamento minorile E ha pagato con la sua vita Per dar voce a milioni di bambini in stato di povertà e schiavitù Oggi festeggiamo i 30 anni dei diritti dell'infanzia Che sono stati approvati all'ONU Il 20 novembre 1989 Noi festeggiamo proprio oggi per i nostri diritti Per quello a cui noi teniamo E tutto quello che secondo noi dovremmo partecipare Secondo me uno principale è quello di poter esprimersi Ma soprattutto quello di avere un futuro Sia come bambini Rappresentiamo tutti i bambini del mondo Perché tutti hanno bisogno dei diritti Soprattutto quelli che purtroppo sono colpiti in guerra E quindi credo che sia importante Dire no a sfruttamenti e cose contro i diritti dell'infanzia Ma contro i bambini in generale Trasformare la commemorazione delle vittime Della lanterna azzurra di Corinaldo Vi ricordiamo 5 adolescenti e una mamma di 38 anni Morti nella calca provocata da spray al peperoncino In un'occasione di riflessione sul diritto a divertirsi in sicurezza È l'obiettivo di Lotto per il futuro Che si terrà a Senigallia appunto l'8 dicembre Ad un anno esatto dalla tragedia In programma la presentazione di un codice etico per i locali Una tavola rotonda a cui è stata invitata anche il ministro dell'interno Luciana Lamorgese E poi un'assemblea aperta a tutti gli studenti Con il collettivo Scuola Zoal Mamma Mia Un'altra delle discoteche più notte di Senigallia Lo stesso giorno ha annunciato il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli Si apriranno le iscrizioni a corsi di formazione sulla sicurezza Per circa 2000 persone Tra organizzatori di eventi Addetti alla sicurezza di locali E funzionari sostenuti dall'ente Con oltre 300 mila euro A Fanno non si placano le polemiche Sul digestore anaerobico L'altra sera in Consiglio Comunale Si è svolto un confronto Su questo impianto per lo smaltimento Dell'organico Allora sentiamo come è andata nell'intervista di Cora Fattori Presidente della Commissione Consigliare Bilancio C'è stata una bella informazione Servita Noi abbiamo fatto questa commissione Perché noi consiglieri dovevamo imparare E abbiamo imparato Abbiamo avuto modo di conoscere molti aspetti Sul tema di gestore Che erano ancora da chiarire Quindi è stata una bella soddisfazione Ecco avete invitato anche l'opposizione Con tecnici e con partecipanti Com'è andato questo aspetto? E' andata molto bene L'opposizione non si è risparmiata Ha fatto domande taglienti Come era giusto che facesse I Cinque Stelle hanno avuto una presenza Molto seria e professionale Grazie a un tecnico Baldoni Che è stato veramente molto bravo Preciso Ha fatto delle belle domandine Che però personalmente Mi hanno aiutato a ragionare su molte cose La Lega non ha portato tecnici E ci dispiace di questo Però anche loro hanno fatto i loro interventi Un po' più politici Noi speravamo in qualcosa di più tecnico Per avere dati, numeri su cui ragionare La cosa bella è che sono arrivate anche È arrivato anche un pubblico trasversale Non solo la presenza di oratori trasversali E questo è bello perché ci deve essere Il 100% della rappresentanza Altrimenti parliamo solo noi stessi Cosa serve Che cosa ci si porta a casa da questa serata? Qual è adesso in maniera costruttiva Quello che si può mettere in pratica Da queste esperienze? Allora, si portano a casa diverse cose importanti Quella che per me è più importante Che forse emerge di meno È l'aver fatto conoscere Almeno a una parte dei cittadini Cosa sono le commissioni consigliari? Perché molti non hanno idea che esistono Lo sanno, ma non sanno bene Quale misterioso oggetto sia In realtà è un tavolo di lavoro Attraverso cui i consiglieri Nei vari argomenti Si creano la loro idea Vagliano quelle che sono le delibere di giunta E possono studiare emozioni anche congiunte Solo di maggioranza O maggioranza e opposizione O solo opposizione Insomma è un tavolo di lavoro vero e proprio È del tavolo di lavoro Qui i cittadini possono partecipare Ovviamente possono partecipare da esterni Ma possono venire, visionare Un modo per tenerci sotto controllo Ed è un loro diritto Ma è anche un loro dovere Tenerci sotto controllo E quindi spero che la cittadinanza Si avvicini sempre di più Perché è anche difficile Rendere conto a qualcuno Se questo qualcuno non sa cosa fai E quali sono i mezzi con cui lo fai E andiamo avanti con gli eventi Domani alle 15.30 Si inaugura è Natale a Monbaroccio Il Borgo ospiterà il mercatino Con l'artigianato artistico proposto In 37 casette in legno Sarà possibile visitare il Chiostro dei Sapori Con le tipicità enogastronomiche E la nuova pasticceria di Babbo Natale A far da cornice La nevicata artificiale Che scenderà tre volte al giorno Accompagnando la sfilata del presepe vivente Fino alla capanna della natività E sempre domani ma alle ore 18 È in programma la cerimonia inaugurale Di Pesaro nel cuore Un appuntamento nel quale Non mancheranno spettacoli di luci Proiezioni, video e laser L'accensione dell'albero di Natale Il più illuminato d'Italia Con meno consumo Grazie alle oltre 80.000 luci LED Un'atmosfera unica e suggestiva Che prenderà forma anche grazie All'apertura dei mercatini natalizi In piazza del Popolo E l'accensione delle luminare Per le vie del centro storico Verrà inaugurata poi Christmas on ice Alla pista di patinaggio su ghiaccio Di 500 metri quadrati Per l'occasione verranno chiusi Ai pedoni l'accesso di via Rossini E corso 11 settembre La piazza la cui capienza limite È di 3.500 persone Non sarà quindi accessibile Da queste due vie Ma verranno garantiti percorsi alternativi E a Fano invece domenica Si terrà il secondo e ultimo appuntamento Di sapori e aromi d'autunno Il salotto del gusto al Codma di Rosciano Alle 10.30 Nella sala riunioni Si terrà la consegna dei premi Per il ventesimo concorso regionale L'orro delle Marche di Olia Nel pomeriggio invece si parlerà Di cibo di qualità Alle ore 16 Nella sala della protezione civile Verrà presentata la prossima edizione Di Baccala Fest Giro Baccalà La vera novità però È rappresentata alle 16.30 Dalla tavola rotonda Dal seme al piatto La buona pasta Primo appuntamento Di una novità assoluta Pasta Fest 2020 Festival della pasta artigianale italiana Maggiore informazioni Le varie iniziative Quindi le iniziative complete Le potrete trovare Nel nostro sito Occhioallanotizia.it E per la gioia dei più piccoli Vi ricordo che lunedì pomeriggio Prenderanno il via Gli appuntamenti con Babbo Natale Dalle ore 18.30 Appunto Babbo Natale Sarà in diretta Per parlare con voi Il numero di telefono Da chiamare È lo 0721 86 14 33 La sera invece Subito dopo il telegiornale Occhio alla notizia Torna Primo Cittadino Ospite del programma di Fanu TV Sarà il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi Vedete anche in questo cartello I numeri di riferimento Il fisso è lo stesso Mentre il telefono mobile Potete inviare messaggi Anche con Whatsapp Al 338 49 68 250 E noi terminiamo qua Il nostro telegiornale Fra poco Trasmetteremo un approfondimento Dedicato a suolo e salute E poi lo speciale Sull'inaugurazione Del nuovo Brico Center a Fano Vi ringrazio per l'attenzione L'informazione torna domani mattina Puntuale e in diretta Alle ore 7 Con la rassegna stampa Grazie per averci seguito Arrivederci Grazie per averci seguito